ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando ok suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c vi chiedo con amore durante la preghiera di protezione di chiedere ai vostri angeli all'arcangelo michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene potrebbe essere che l'intera lettura sia posta per voi quindi ascoltate il vostro cuore ok prima di iniziare uso a fare una preghiera di protezione per connetterci con gli angeli con l'arcangelo michele affinché ci diano guida ed assistenza e affinché questa lettura sia attendibile invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono questa lettura angelica invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù invoco maria regina celeste l'intera coscienza mica elica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione guida ed assistenza per me per tutte le persone che con tanto amore mi seguono grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie maria regina celeste grazie all'intera coscienza mica elica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok gruppo a miracoli vediamo il gruppo b eccolo qui amore andiamo a vedere il gruppo c avventura diamo ora le carte del dei viaggiatori sacri gruppo a un territorio sconosciuto gruppo b nuovo inizio no inizia adesso inizia adesso interessante eccola qui si è girata avventura diciamo un'avventura interessante meravigliosa ok gruppo c ora vediamo un po mettiamole qui il terzo mazzo e diciamo che per per il gruppo c avventura due carte di due mazzi diversi che parlano di avventura quindi è molto interessante questo aspetto ok ora vediamo un attimino queste carte sono le carte degli esseri della natura che io adoro allora fiducia fiducia per il gruppo a vediamo un po gruppo b è caduta la carta manifestazione interessante bene bene gruppo c eccola qui caduta la carta viaggio bello bello allora iniziamo la nostra lettura angelica gruppo a miracoli infiniti alle porte ok sta arrivando la sincronicità divina sta arrivando tutto quello che hai chiesto nelle tue preghiere non ci sei molto abituato abituata a vedere queste manifestazioni sincroniche perfette nella tua vita ma questo è dovuto anche grande al tuo grande lavoro di preghiera di attitudine di azione di focalizzazione nella direzione dei tuoi sogni dei tuoi obiettivi c'è un territorio sconosciuto perché appunto non non avevi ancora percorso questo tipo di cammino ma tutto è esattamente come deve essere quindi tutto è perfetto tutto è secondo il disegno divino quindi vai avanti per la tua strada continua continua con le tue preghiere continua con la gratitudine continua a vibrare nelle alte frequenze della luce perché tutto è veramente allineato ci vuole fede e fiducia veramente assolutamente questa situazione è positiva per te tutto andrà per il meglio le tue aspettative non solo saranno diciamo i risultati andranno oltre le tue aspettative va bene non sei solo assolutamente chiedi prega per guida e assistenza per aiutarti a gestire questi momenti magici di meraviglia e di sincronia divina che stanno già arrivando sono già arrivati nella tua bellissima vita bene passiamo al gruppo b gruppo b amore amore è la parola che trasforma tutto trasforma le emozioni trasforma ogni dubbio trasforma ogni incertezza guarisce le ferite del dolore ti consente di trascendere il dolore la sofferenza la paura il giudizio l'ego e la via maestra dell'amore è quella che tu hai scelto per scelta della tua anima ancora prima di incarnarti e ogni volta che tu non risuoni con questo amore stai male dentro e per questo che quando senti la pace la genia nel cuore vuol dire che sei allineato vuol dire che sei allineata nella direzione giusta quindi apriti a ricevere amore a donare amore alle altre persone ma apriti a ricevere perché grande manifestazione sta arrivando nella tua vita quindi stai manifestando più amore nella tua vita quindi magari anche una relazione d'amore con il tuo partner oppure se hai già una relazione ci sarà una crescita evolutiva in questo rapporto speciale siete proprio anime compatibili quindi tutto andrà bene andrà per il meglio alcuni di voi incontreranno molto presto la persona giusta diciamo che l'invito da parte degli angeli dell'arcangelo michele è anche quello di iniziare ad agire nella direzione dei tuoi sogni è un periodo appunto di manifestazione rimani allineato alla via maestra dell'amore non cercare scorciatoie non cercare di deviare il tuo cammino perché ogni volta che tu non risuoni con l'amore poi rischi di stare male rischi di perdere la tua strada quindi abbi fede fiducia continua a pregare continua a rimanere connesso e connessa nella tua direzione perché stanno arrivando sincronicità divine nella tua vita ok gruppo c avventura un'avventura meravigliosa diciamo che devi è venuto il momento delle esperienze meravigliose stanno entrando nella tua vita devi solo avere il coraggio il coraggio di osare devi solo avere il coraggio di prendere un rischio di avventurarti anche nell'ignoto magari devi iniziare una nuova attività magari devi parlare devi dire qualcosa di importante devi scrivere il tuo libro devi proporre un qualcosa alle altre persone hai paura di osare invece l'invito è proprio quello di avventurarti in questa esperienza perché porterà dei risultati meravigliosi tu questo il tuo percorso è un viaggio un viaggio avventuroso la vita è un'avventura bisogna osare nella vita chi osa riesce a realizzare sogni per molti irraggiungibili e invece chi osa anche sognare chi osa anche agire nella direzione dei propri sogni riesce a manifestare grandi cose nella propria vita diciamo che anche questa è una carta molto positiva perché praticamente diciamo che troverai aiuto per i tuoi progetti ok e per molti di voi significa anche che andrete a fare una vacanza o andrete a vivere in luoghi diversi diciamo ci sono cambiamenti alle porte nella vostra meravigliosa vita ok bene prendiamo un messaggio da questo libro chiediamo agli angeli all'arcangelo michele di aiutarci chiedo guida e l'assistenza per ricevere il messaggio più giusto per tutte le persone coinvolte il messaggio è abbandona le tensioni ok le tensioni le ansie provocano un generale irrigidimento nei confronti della vita sono inutili eredità che portiamo nel corpo e nella mente possono essere abbandonate proprio adesso cominciando con il pacificarsi bene per oggi la lettura si è conclusa volevo ricordarvi che mi occupo di leggere le carte oppure mi occupo anche di facilitare la connessione diretta con l'arcangelo michele per portarvi messaggi guida e assistenza in questo momento particolare della vostra vita mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che porta armonia porta beneficio a livello fisico mentale emozionale spirituale laddove più giusto per voi in questo dato momento volevo ricordarvi che il percorso di coaching di due mesi per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce partirà il venerdì 2 giugno alle ore 20 e 30 per chi invece vuole imparare a connettersi con le nuove frequenze no scusate con gli angeli e quindi ricevere guida e quindi ricevere guida e assistenza imparare la connessione con le carte o la connessione con la scrittura ispirata la connessione diretta il percorso inizierà il 21 giugno mercoledì 21 giugno alle ore 20 e 30 quindi non esitate a contattarmi per ricevere maggiori informazioni intanto io vi saluto vi auguro una giornata meravigliosa e ascoltate la guida degli angeli un bacione a tutti ciao a presto